Per l'ennesima volta Trieste fa parte a pieno titolo di una trasformazione politica a livello nazionale. Il deputato triestino e vicepresidente della Camera Ettore Rosato è infatti in prima linea nella scissione del PD e lui ad avere in mano i comitati di azione civica voluti da Renzi per preparare la partita del nuovo movimento in vista della Leopolda. Oltre a Rosato che è stato in precedenza capogruppo alla Camera del PD, sottosegretario agli interni e prima ancora candidato a sindaco a Trieste sconfitto sul filo di lana da Di Piazza, in bocca l'uscita dal PD anche la sua scudiera locale Antonella Grim, consigliera comunale e soprattutto ex segretaria regionale del partito Inera Serracchiani. Perché credo che la risposta che stiamo dando in questi anni alla globalizzazione, al grande sconvolgimento politico, economico e sociale di tutto l'Occidente non possa essere un sovranismo cattivo ma non possa neanche essere il tentativo di protezione passiva ritornando a vecchie ricette del passato e che quindi ci voglia una terza via, un accompagnamento coraggioso e riformista alle grandi sfide che ci attendono. È un percorso che ho maturato sicuramente nell'ultimo anno, chiaramente non è una scelta facile, ci sono pezzi di vita, compagni, amicizie con i quali ho condiviso veramente uno dei periodi più intensi della mia esperienza ma c'è anche tanta storia secondo me di futuro da provare a scrivere. Restano invece allineati all'interno del contenitore DEM oltre alla Serracchiani anche tutti gli altri big triestini fra cui consiglieri regionali Russo e Cosolini ed è bene sottolineare che proprio l'ex senatore e la ex presidente almeno questa volta sono dalla stessa parte della barricata. Ma come si riverbererà tutto questo sui prossimi appuntamenti politici a partire dalle amministrative del 2021? Intanto dobbiamo assolutamente confrontarci su questi primi passi e poi c'è da costruire una nuova proposta politica insieme nel campo del centro-sinistra per battere quel sovranismo cattivo e per cercare anche di fare scelte più coraggiose. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.